Sono passati dieci anni dal primo maggio del 2014 e da adesso il Tribunale di Arezzo può dichiarare la morte presunta di Guerina Piscaia all'epoca dei fatti 50enne che sparì senza mai far ritorno da Caraffello nel comune di Badia Tedalda dove viveva con il marito Mirko Alessandrini e il figlio Lorenzo. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato ma le indagini e il successivo processo portarono alla condanna definitiva 25 anni di Gratiena Labi all'epoca dei fatti viceparroco di Caraffello per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ad incastrare l'ex religioso che continua a professarsi innocente dal carcere di Rebibbia alcuni sms inviati dal cellulare della donna scomparsa e le analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefonini dei due. Secondo i giudici di ogni grado di giudizio, Alabi Guerrina avrebbero avuto una relazione sentimentale testimoniata dai 4.000 messaggi inviati tra i due sino al 1 maggio 2014. L'ormai ex religioso l'avrebbe uccisa il giorno stesso della scomparsa secondo gli atti processuali, la paura di uno scandalo immovente dell'omicidio. Sulla vicenda è ancora in corso la causa civile con una richiesta di distarcimento milionaria intentata dai familiari della donna, una dal figlio e dal marito ed un'altra speculare dalle sorelle e dalle nipoti.